Il Pubblico Ministero Stefano Luciani ha depositato agli atti del processo Borsellino Quater, in corso davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta, preseduta da Antonio Balsamo, i verbali delle dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia, Vito Galatolo, ex reggente del mandamento a Paralmitano di Risuttana, Marco Marino, appartenente all'Andrangheta, e Francesco Raimo, ex camorrista. Il Pubblico Ministero ha chiesto di citare tutti e tre a deporre. Galatolo, lo scorso novembre, avrebbe riferito ai magistrati della Procura di Caltanissetta di aver incontrato, nel marzo del 92, Filippo Graviano, accompagnato da Vittorio Tutino, imputato nel processo. Il capo mafia di Brancaccio avrebbe detto a Galatolo di star tranquillo perché erano coperti e avrebbero invitato lo stesso Galatolo a dismettere un parcheggio che avevano in via d'Amelio. Dopo la strage, Tutino avrebbe detto a Galatolo «hai visto perché dovevi dismettere il parcheggio? Mi piangeva il cuore se voi sareste rimasti in quel posto». Con i Pubblici Ministeri di Caltanissetta, Marco Marino ha invece parlato dei suoi colloqui in cella con Salvatore Vitale, il quale temeva che Gaspare Spatuzza facesse il suo nome perché disponeva di un'abitazione da dove era possibile controllare i movimenti del giudice Borsellino. Infine Raimo avrebbe riferito di aver trascorso un periodo in carcere con Vittorio Tutino, il quale temeva che Spatuzza lo avesse tirato in ballo per il furto tra 126 usata come autobomb in via d'Amelio. Il Pubblico Ministero ha anche chiesto che dopo l'esame dei tre collaboratori siano chiamati a deporre i farsi pentiti Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta. Scarantino è imputato nel processo assieme ai boss Vittorio Tutino e Salvo Madonia e agli altri farsi pentiti Calogero Pulcio e Francesco Andriotta accusati di calunnia aggravata. La Corte, dopo la richiesta avanzata dall'avvocato Flavio Sinatra che ha chiesto un termine a difesa, si pronuncerà nella prossima udienza fissata per il 5 febbraio. Grazie a tutti.